La pelle dell'orso E' un romanzo per ragazzi Anche se diciamolo ormai Questa è anche una definizione un po' Obsoleta, sbagliata Perché c'è questa tendenza Degli adulti a leggerli poi i romanzi per ragazzi Allora, anzitutto Devo dire che per la copertina dobbiamo Omaggiare, veramente Fare i complimenti a Guido Scarabottolo Che è l'artista, il grafico Che si occupa proprio Della grafica, della copertina Di Guanda Per quanto riguarda la definizione romanzo per ragazzi Io non sono d'accordo, questo è un romanzo Anche per ragazzi, questo è un romanzo Cioè io faccio il narratore Faccio lo storyteller e mi rivolgo a tutti Io quando scrivo Amo definirmi un narratore Popolare, credo che vada riscoperta Un po' questa dicitura La narrativa popolare E tra l'altro devo dire che quando scrivo un romanzo Per l'appunto amo rivolgermi a tutti Quindi dal ragazzo di 14 anni A mio nonno per dire E quindi devo dire che tra l'altro Da questo punto di vista Sto avendo delle soddisfazioni Ecco, ho avuto parecchi spunti per delle domande Il libro è ambientato in Veneto Sulle Dolomiti addirittura Quindi c'è Sia il discorso in quanto riguarda Appunto l'ambientazione Ma c'è anche Molto riferimento linguistico Perché gli oggetti, strumenti Vengono nominati con nomi antichi Veramente a dire E però a che punto che restano ancora vivi Grazie al dialetto Che però è usato Soltanto in questo caso In zone abbastanza remote Poi del Veneto Detto con rispetto naturalmente Certo, beh Qui siamo in un'ambientazione Che è molto particolare Perché Colle Santa Lucia Cioè il paesino Dove è ambientata questa storia Questa vicenda È in realtà Una terra di confine Una terra Molto affascinante Anche per questo Perché si sentono un po' ladini Un po' tedeschi Un po' veneti Un po' trentini E questo è anche uno Degli aspetti più affascinanti Qui siamo nel 63 Quindi questa mescolanza In realtà Per paradosso Era ancora più sentita Perché da un punto di vista storico Appartenevano all'Austria Però poi erano passati Sotto l'Italia Insomma Quindi La cultura ladina La mantengono tuttora Perché in realtà Quello non è dialetto Ma è ladino Che è una lingua antichissima E poi sì Le dolomiti bellunesi E soprattutto La storia tra un padre E un figlio Però prima di arrivare a questo Volevo dire questo Le dolomiti bellunesi Sì Io amo raccontare In tutti i miei romanzi Il territorio veneto Ma non tanto Per un'affezione particolare Ma perché è il territorio Che conosco Cioè io non mi ci vedo A raccontare una storia In Alabama Piuttosto che Nel nord dell'Ucraina Cioè io conosco Questo territorio E quindi io credo Che per raccontare Ed essere credibili Sia necessario Ambientare le storie Che si vogliono scrivere Nei posti che si conoscono Il libro è dedicato Alle tue figlie La storia È il rapporto Tra un padre e un figlio Padre che è l'unico genitore Per questo bambino All'inizio Non è che va tutto proprio liscio Il rapporto tra i due Ma si sa Poi dopo naturalmente L'ottore rapporto Tra padre e figlio Non è sempre così facile Ci sono degli step Da superare E poi c'è anche Questo aspetto avventuroso Perché è un romanzo d'avventura Ma dici benissimo Questo è un romanzo D'avventura E questa è la cosa Che affascina di più Soprattutto il pubblico Più giovane Quelli meno avvezzi Alla lettura I lettori cosiddetti deboli Però va anche detto Che dietro questa patina Di romanzo d'avventura Si nascondono delle cose A mio modo di vedere Molto più profonde E l'opportunità Di leggere questo romanzo In chiavi E in cifre Anche alternative Ovviamente Quelle più importanti Secondo me Sono quella Relativa al romanzo Di formazione E quella relativa Al romanzo Di iniziazione Tu parlavi del rapporto Padre figlio È vero È fondamentale Ed è una cosa Che non ha tempo Non ha tempo Perché se vogliamo Questo rapporto Può essere letto ancestralmente In chiave fiabesca Ma oggi Ancora oggi I genitori E i loro figli Che siano adolescenti Che siano più giovani Meno giovani Comunque hanno un rapporto Molto spesso Problematico E a volte conflittuale Questo lo sappiamo Ecco Ultima domanda sul libro Poi ti faccio altre due domande Che sono due curiosità Che voglio Che voglio togliermi Ecco L'orso Che vanno a cacciare Appunto Questo padre Questo figlio In realtà chi è? Cosa vuole rappresentare? Ma allora Anzitutto va detto Che questa caccia L'orso Non rappresenta Nulla contro gli animali Anzi è stato definito Da diversi critici Uno dei romanzi Se non il romanzo Più ecologista Di questo 2013 Finora Perché qui siamo di fronte Se non sbaglio Forse ricordi Herzog L'autore Ma assolutamente Di Gritly Man Io credo che questa cosa Ti avrà in qualche modo In un certo qual modo Sicuramente Ma vedi Qui siamo di fronte A una Poi non vorrei svelare Troppo il romanzo Però siamo di fronte A un orso Che di fatto È una realtà fisica Un bestione Diciamo la verità Fa paura E soprattutto il ragazzino Questo 12enne È come dire Animatissimo Ed entusiasta Di partire all'avventura Con il padre Un padre burbero Alla caccia di questo animale Ma di fatto Sotto sotto Questo orso Non rappresenta Nessun pericolo Il pericolo È rappresentato dagli uomini E dall'operato degli uomini In questo senso C'è un profondo messaggio ecologista Lo vediamo alla fine Ma tra l'altro L'orso Che cos'è anche L'orso è Come dire Un capro espiatorio Quanti sono gli orchi Che nella nostra vita Inseguiamo O quelli che In qualche modo Ci fanno Delle paure Ci trasmettono delle paure Beh un po' questo L'orso Metaforicamente Certo Due battute veloci Invece Su altro Savanna Padana Diciamo è stato Il libro che ti ha lanciato No? Di fatto Sì Che ti ha fatto fare Quel salto E c'era un po' Questa definizione Ha tornato una scrittura Una scrittura pulp Anche qui Voglio capire È una cosa che decide Lo scrittore Di far parte Di una certa Di un certo genere Oppure Sono poi le case editrici Che come le case discografiche Decidono di collocarti In un settore O un altro Del mercato Assolutamente La casa editrice Ma ancora più Che la casa editrice Sono i critici I critici Sono spaventati Dall'idea Di non riuscire A collocare Un romanzo Di non definirlo Di non etichettarlo Quando si trova Un narratore puro Un battitore libero Come sono io Perché secondo me La letteratura La narrativa E la scrittura Sono prima di tutto Un atto di libertà E di liberazione Allora Quando uno scrittore Non si colloca In un genere Allora È chiaro che Con molta fatica Viene accettato E appunto Depositato In uno scaffale Dell'arbireria Piuttosto che In una recensione critica Per esempio Savannah Padana stessa In realtà È stata definita Un noir È stato definito Un crime Un pulp Ma non è nulla Di tutto ciò È un romanzo Cioè Poi alla fine Io sono uno storyteller Te l'ho detto Quindi anche La pelle dell'orso Ha cifre stilistiche Toni Argomentazioni Completamente diverse Ma che cos'è Anche prima Abbiamo detto Romanzo di iniziazione Sì Romanzo di avventura Sì Romanzo di formazione Sì Ma alla fine Ma alla fine della fiera È un romanzo È una storia Bella da raccontare Savannah Padana Allora per dirla tutta La definizione più bella Che ha avuto È stata quella Di polenta western E piace anche a noi Devo dire che Chi l'ha trovata Questa soluzione Ha trovato la soluzione giusta Noi ti ringraziamo davvero Speriamo di ospitarti ancora Prossimamente con altri libri Ci piace parlare di libri Ci piace parlare di un libro Come la pelle dell'orso Poi l'orso per noi Ha un valore affettivo Perché è uno spazio sociale A Trento Si chiama proprio l'orso E quindi Si chiama proprio Bruno Come l'orso E quindi a noi ci piace Questa cosa Ricordarla ancora di più Quindi mandiamo anche un abbraccio Se sicuramente qualcuno Ci sta seguendo Anche da là E noi ti ringraziamo La pelle dell'orso Trovate nelle migliori librerie D'Italia Anche nelle peggiori E quindi naturalmente Anche nella nostra Che è appunto Situata qua vicino Beh la nostra è la migliore di tutte Assolutamente Va benissimo così Ti ringraziamo davvero Grazie a te Un abbraccio Noi ci prendiamo per una clip Poi torniamo Perché facciamo un'escursione In territori stranieri E poi invece torniamo In Veneto Con Ernesto Milanisi Sui ospici Parla di teatro Tante cose